Seduta di scarico a Formello, Inzaghi divide la Rosa, Candreva e Close tentano il recupero per la Samp. Jingle Spot! Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141B, fantastico bonus di benvenuto sull'apertura del vostro conto online. Ore 10.30, la Rosa si divide come in ogni seduta di scarico. Sul campo, con il pallone, lavorano soltanto coloro che non sono stati impiegati a Torino o che sono entrati nel corso del secondo tempo. Quindi basta Milinkovic, Conco, Mauri, Maurizio, Cataldi, Brafayde e Morrison più il giovane Manoni. Gli altri, Ott, Gentiletti, Patrick, Giorgiovic e Keita e Felipe Anderson, svolgono una corsa defaticante e poi rientrano in palestra. Alla lista mancano gli infortunati Bicevac, Kicna, Matri e Candreva. Quest'ultimo ha saltato la partita con la Juve per un'infiammazione al tendine Rotuleo. Proverà a rientrare per la trasferta di domenica con la Samp. Inzaghi spera di poterlo schierare titolare sulla destra, come contro Palermo ed Empoli. Stesso discorso per Klose. Tornato dalla Germania è out ieri per un problema alla mano. Per lui ci sono buone chance di impiego. Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141B. Consigli del Mago in sede e schedine già pronte e giocate per voi. Fantastico bonus di benvenuto sull'apertura del vostro conto online. Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141B. Il posto migliore dove passare alla cassa.